Pedro è un bel gattone di 11 anni. Quella di Pedro è una storia un po' particolare. Lui viveva in casa con un nonnino che si prendeva cura di lui da molti anni. Purtroppo questa persona qui si è ammalata di covid ed è deceduta. Pedro è rimasto in questa casa per giorni a miagolare, a chiedere insomma aiuto. Dopo qualche giorno di questi continui lamenti e miagoli, i vicini si sono finalmente decisi a chiamare la Leida, che è intervenuta subito e l'hanno portato in gattile per prendersi cura di lui. Ora Pedro cerca una nuova casa, quindi chiamateci per adottarla. Purtroppo la vita di Pedro è cambiata. È cambiata perché lui non avrebbe mai pensato che il suo papà potesse perdere la battaglia contro questo virus terribile che è entrato nelle nostre vite. Così è stato. E pensate come possa essersi sentito. In un attimo ha perso tutti i punti di riferimento. La sua famiglia, la sua casa, i suoi affetti. Ora i bravi volontari della Leida che l'hanno preso con sé, gli hanno cercato di dare quell'amore che lui in vano andava ricercando negli occhi di tutti, ma non vedrà più quelli della persona che lo amava tanto. Sono sicura che non rimarrete indifferenti davanti a questa storia. È un micio delizioso. Avete visto? Bello cicciottone. Ha undici anni, ok? Non è più giovanissimo. Ma proprio per questa ragione è un micio saggio, è un micio che sa comportarsi. È un gatto molto tranquillo ed è un gatto che ha bisogno di amore. Per cui non perdete tempo. Date una nuova vita a questo micio. Perché noi stiamo facendo i conti con questa situazione che da troppi mesi ha invaso il nostro paese. E dobbiamo dare una casa a coloro che sono rimasti orfani per il Covid. Quindi il nostro micio oggi deve arrivare a casa vostra. Telefonate subito allo 0287 24 85 30. Oppure come al solito scrivete a porta mia casa chiocciola dalla parte degli animali.